...di Adele, il cui titolo è Set Fire to the Rain. Kanda Giulia Greco! Buonasera! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grazie Julia Greco, bravissima, brava Julia Complimenti, brava, brava Abbiamo visto, Julia, anche un altro talento a San Michele di Canseria anche in vesti Giulia scusi, signorina Giulia mi perdoni, prego ci accomodi stavo cercando di fare un elogio perché abbiamo assistito ieri sera anche alla tua performance come presentatrice dobbiamo dire che sei stata veramente brava hai letto poco e questo significa tanto, sai andare a braccio non è facile come facciamo noi poveri, diciamo così tu sei stata brava, veramente penso che questa tua passione, questa tua attitudine tu possa coltivarla oltre allo studio che non devi mai tralasciare per poter avere una possibilità in più di poter esplodere e fare successo anche nel mondo dello spettacolo un applauso a Giulia allora la prossima